Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Aileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vi farò ascoltare un estratto tratto dal libro Endgame di Omid Scobi, edito Solferino. Ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e se vi va per i vostri acquisti di usare il mio link di affiliazione Amazon che trovate nell'info box. A voi non costa niente, mentre io avrò una piccola percentuale per migliorare la qualità dei video e contenuti del canale. Grazie! Prima però conosciamo un po' l'autore. Omid Scobi, giornalista londinese, è stato royal editor per Harper's Bazaar, collaboratore di ABC News, Good Morning America e conduttore del popolare podcast reale della ABC The Hair Pod. Racconta la famiglia reale da oltre 12 anni. Prologo. A partire dai 90 anni della regina Elisabetta II, il mio lavoro di commentatore reale ha iniziato a comprendere un elemento che le persone intorno a me trovavano a dir poco macabro. Ovunque andassi, che si trattasse di un viaggio in Galles con gli amici o di una visita reale in Marocco, portavo sempre con me un completo scuro elegante con la cravatta nera. Per amici e parenti al di fuori della bolla reale, la presenza di quell'infausto portabiti era decisamente tetra. Un cupo promemoria del fatto che la regina Elisabetta II si stava avvicinando alla fine dei suoi giorni. Dal 2011, quando mi sono unito ai Royal Watcher, il completo è diventato un pezzo fondamentale del mio guardaroba da reportage, una misa adeguata da tenere a portata di mano e indossare nel momento in cui Buckingham Palace avrebbe annunciato al mondo la morte della regina. Quando ero a Londra, il completo, un pratico misto poliestere, chi ha tempo di stirare quando si deve dare una notizia dell'ultima ora, restava per lo più nel bagagliaio della mia macchina. L'8 settembre 2022, tuttavia, quando fui convocato nell'ufficio londinese di ABC News per quello che pensavamo potesse essere il tanto temuto annuncio, la macchina e il suo contenuto si trovavano a più di 30 km di distanza, in un'officina dell'Essex. Stavo sbrigando delle commissioni, quando tra fonti e colleghi cominciarono a diffondersi le prime voci. Quindi non ebbe il tempo di correre a casa a recuperare un completo di riserva. Angosciato dalla fretta, afferrai il primo pullover nero che mi capitò a tiro da Marks & Spencer e presi la metropolitana fino allo studio di Hammersmith. La regina era confinata a letto nel castello di Balmoral, in Scozia, ormai da due giorni, dopo aver concluso quello che sarebbe diventato il suo ultimo impegno pubblico. Il 6 settembre, infatti, aveva congedato il controverso primo ministro Boris Johnson e accolto Litz Truss, che ha ricoperto la carica per un periodo eccezionalmente breve. L'indomani, gli assistenti di palazzo annunciarono che la regina aveva accettato il consiglio dei medici di riposare. La mattina seguente, un ulteriore comunicato avvertiva che i medici erano preoccupati per la salute di sua maestà e le raccomandavano di restare sotto stretto controllo medico. Una fonte interna mi inviò un messaggio per dirmi che le cose si mettevano male. Per una serie di motivi speravo che si rivelasse un falso allarme. All'arrivo negli uffici di ABC News quel giovedì pomeriggio, ricevetti un messaggio da un'altra persona molto vicina alla famiglia. Mentre riprendevo fiato nell'ascensore dell'edificio di proprietà della Disney, notai che in sottofondo risuonava un poco di zucchero, la colonna sonora perfetta per rendere il momento ancora più surreale. Per favore, non dire ancora niente, ma penso che sia successo. Aveva scritto la mia fonte, risposi con qualche domanda per accertarmi di aver capito bene. Evidentemente, presa dall'agitazione però, la fonte, una persona di cui avevo imparato a fidarmi nel corso degli anni, non rispose. Un quarto d'ora dopo, mentre mi sedevo di fronte alla telecamera e indossava auricolari e microfono, le mie ancore nella tempesta. Dall'altro lato della redazione la produttrice Zoe McGee esclamò «abbiamo avuto la conferma». In pochi secondi il mio cellulare fu inondato di messaggi. La dichiarazione ufficiale del palazzo non era ancora arrivata, ma il cuore mi batteva già all'impazzata. Sebbene avessi partecipato ai briefing di preparazione per il momento della caduta del London Bridge, il nome in codice per indicare la morte della sovrana e le operazioni immediatamente successive, niente avrebbe potuto prepararmi davvero alla notizia. Nemmeno la Bibbia di 200 pagine che McGee aveva messo insieme negli ultimi mesi. La morte della sovrana regnante più longeva della Gran Bretagna, una donna amata e ammirata in tutto il mondo, mi colpì a un livello inaspettatamente intimo e personale. La regina aveva accompagnato me e buona parte degli inglesi per tutta la vita. Che si fosse o meno interessati alle vicende della royal family, Elisabetta II era diventata una specie di nonna della nazione, una presenza confortante nei periodi più difficili, più popolare della monarchia stessa. A breve il collegamento da New York o Mid, gridò Zoe. Ed eccomi qui. Durante la stesura di Endgame la storia reale si è arricchita di una straordinaria quantità di eventi. Re Carlo III e la regina Camilla si sono presentati al mondo, il principe Andrea è stato spogliato dei suoi titoli, il principe Harry ha prodotto un'autobiografia esplosiva e una serie Netflix piena di rivelazioni, e naturalmente sua maestà la regina Elisabetta II è morta. Come era prevedibile, il tutto, oltre a una sorprendente sequela di prime pagine, ha avuto un notevole impatto su questo libro, sulla sua struttura, sulla forma della narrazione e sui personaggi. Quello che sarebbe dovuto essere un anno eccezionale per la famiglia reale, dedicato alla celebrazione della regina e dei suoi 70 anni di regno, è stato invece un anno di sconvolgimenti e conflitti. Il giubileo di platino di Elisabetta II, celebrato nella prima metà del 2022, è stato oscurato dalla sua morte, avvenuta a pochissima distanza a settembre. Un'estate di festeggiamenti e bandiere sventolanti si è trasformata troppo in fretta in un autunno di profondi cambiamenti e gravi rivelazioni. E tutto è stato senz'altro impegnativo per un'istituzione non proprio abituata o esperta nel gestire turbamenti o cambiamenti così repentini. L'establishment reale ha diligentemente messo sul trono un altro re, respingendo i dubbi e le dure accuse di un principe in esilio. Ho cominciato questo libro nell'estate del 2022, quindi la regina è morta mentre ero nel pieno della stesura. Sono tornato indietro e ho dovuto riformulare i capitoli chiave ripensandoli alla luce della scomparsa della sovrana e dell'ascesa al trono del suo figlio maggiore. Se inizialmente buona parte di Endgame avanzava teorie sul futuro della Ferb, ditta, com'è soprannominata la casa reale, all'improvviso mi sono ritrovato ad assistere e commentare quel futuro in presa diretta. Da un giorno all'altro siamo finiti in un nuovo capitolo della Royal Family. Un momento che undici anni prima, all'epoca del primo incarico reale con il principe William e l'allora Kate Middleton, non avrei mai potuto immaginare. I mesi seguiti alla morte della regina mi hanno dato il tempo di elaborare quel terremoto e l'opportunità di osservare la nuova era prima di contestualizzarla. E mi hanno anche offerto la possibilità di parlare con i diretti interessati e con le persone che hanno fatto parte del viaggio che ha portato fin qui. Pensatela in questo modo. Ho cominciato a scrivere il libro nell'età elisabettiana e l'ho concluso nell'età carolina. Nel giro di pochi giorni si è consumato un cambiamento dinastico epocale, che ha modificato anche molte delle mie percezioni. Credo di aver realizzato veramente che la regina Elisabetta II era morta solo una decina di giorni dopo, quando mi unì a un piccolo gruppo di giornalisti per assistere all'esposizione pubblica del suo feretro a Westminster Hall. Migliaia di persone affrontavano più di 10 chilometri di code e 24 ore di attesa per renderle omaggio. A noi giornalisti, che facevamo turni di 18 ore per tenere aggiornati milioni di telespettatori in tutto il mondo, il team della Operation Marky del Parlamento britannico aveva dato la possibilità di prenotare delle finestre di un'ora a Westminster, in modo da poter consegnare quel momento alla storia. Ero già stato alle House of Parliament per altri incarichi, ma con la sospensione delle attività politiche per il lutto nazionale, la viuzza in genere brulicante di attività dello storico complesso di edifici era stranamente silenziosa mentre camminavamo verso New Palace Yard. Immerso in una fitta conversazione con uno dei membri dello staff che ci guidava, non ero preparato per il momento in cui arrivammo sulla soglia della Westminster Hall. All'improvviso, eccolo lì, il feretro della regina su un catafalco monumentale. La sala dal soffitto avvolta era immersa in un silenzio rotto soltanto dal suono dei nostri passi e dal fruscio dei cappotti delle altre persone in lutto. Un uscere con il volto segnato dalla stanchezza ci guidò solennemente su per una stretta scala a chiocciola in fondo alla stanza. Salimmo su un'alzata improvvisata dipinta in modo da mimetizzarsi con le spesse pareti di pietra risalenti all'undicesimo secolo, una torre di osservazione non troppo appariscente per la stampa. Dallassù, a circa quattro metri da terra, i miei occhi erano quasi allo stesso livello della corona imperiale appoggiata sul feretro. Come sono sicuro che abbiano pensato molte delle persone entrate e uscite silenziosamente dalla sala dopo aver reso omaggio alla sovrana. La vista della corona sulla bara rendeva la morte della regina drammaticamente reale. Fino a quel momento, credo, io e molti miei colleghi giornalisti avevamo continuato a lavorare in una sorta di stato dissociativo. Accanto alla corona c'erano il globo e lo scettro. Li avevo visti di persona molte volte, ma trovarmi così vicino a quei due simboli e per giunte in quel contesto, mi fece venire la pelle d'oca. In parte per il peso della storia e della tradizione, ma anche per l'aura di mistero e mito che li avvolgeva. Certo rimangono degli oggetti, però il trascorrere del tempo, le narrazioni sul potere e sul lignaggio divino tramandate nei secoli e l'umano desiderio di attribuire ordine e significato hanno creato un'alchimia in grado di trasformare quegli oggetti in idee potenti. Quel giorno a Westminster avvertì una magia strana e imperiosa, ma la donna, le spoglie umane di tutta quella regale autorità e misteriosa poesia, giaceva chiusa in una bara. Per tanto tempo aveva rappresentato la corona e viceversa. Senza di lei, quegli ornamenti e simboli sembravano esposti, quasi nodi, come se fossero stati colti alla sprovvista. Re Carlo III. È passato un po' di tempo, ma mi fa ancora un certo effetto scriverlo. E lo stesso vale per Camilla. La promessa che avrebbe assunto soltanto il titolo di principessa e poi di regina consorte era una bugia bianca che ora il palazzo chiede a tutti di dimenticare. Ma eccoci qui. Nonostante i loro difetti ed errori, è difficile non simpatizzare con i nuovi sovrani, dimostrarsi all'altezza di chi li ha preceduti, è un compito quasi impossibile, soprattutto se si considera che insieme a Elisabetta II, sfortunatamente, sono andati perduti anche gran parte della leggenda, del misticismo e del mistero che avvolgevano la monarchia. Credo si possa affermare con un discreto grado di certezza che al di fuori della cerchia ristretta erano in pochi a conoscere davvero la regina Elisabetta II. Si era calata completamente nella solennità del suo ruolo. La sua vita privata apparteneva soltanto a lei e l'ha sempre protetta con le unghie e con i denti, ben consapevole che condividerla significava perderla e ha sempre capito e rispettato le esigenze della corona. Il servizio veniva prima degli interessi personali e il dovere prima della felicità individuale. La sua risoluta compostezza pubblica ne era la dimostrazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Con Carlo e Camilla è il contrario. Il re si è mostrato pubblicamente come un ambientalista convinto, un occasionale ficcanaso in questioni politiche, un uomo d'affari di successo, un padre imperfetto e un marito donnaiolo che ha distrutto la vita della principessa Diana. Un'eredità infamante che è ansioso di lasciarsi alle spalle ora che è salito al trono. Lo conosciamo con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Il suo lungo elenco di fallimenti personali e passi falsi ha riempito per anni le prime pagine dei giornali e gran parte dei britannici non lo perdonerà mai del tutto per il suo ruolo nella tragica scomparsa di Diana. Quanto alla regina Camilla, una donna tollerata dall'opinione pubblica ma non ancora universalmente accettata, rimane per tanti l'altra, il terzo incomodo nel matrimonio di Carlo e Diana, la causa di molte sofferenze all'interno della famiglia reale. Ora, quindi, non c'è alcun velo di arcana segretezza che separa re e regina dai loro sudditi, niente che fornisca copertura e assicuri un potere imperscrutabile. Tutti sanno che il re Carlo avrebbe preferito una vita d'assorbente interno della regina Camilla. Per quanto ammirevoli, gli sforzi per accrescere la popolarità di Carlo non verranno mai facili alla monarchia, a prescindere dalla sua nuova posizione. Per quanto possa essersi sentito preparato per la salita al trono, tra le mura del palazzo e nella mente degli inglesi la domanda rimane. Sarà all'altezza? A pochi giorni dalla morte della regina, mentre i comuni cittadini stavano ancora piangendo, il nuovo re ha fatto discutere dopo che le telecamere lo hanno pizzicato a perdere la pazienza per una penna difettosa. Eccentrico testardo che ha passato la maggior parte della vita ad aspettare e pianificare la sua ascesa, anche a scapito del rapporto con i figli. L'ex principe di Galles non solo è molto meno popolare della regina che l'ha preceduto e del re che gli succederà, ma rappresenta anche una spina nel fianco per l'istituzione monarchica. Nonostante sia ben voluto dai leader mondiali e dalle figure di potere, nel corso della vita di sua madre non è mai riuscito a ingraziarsi le persone influenti all'interno del sistema, gli operatori di palazzo, i sostenitori legati all'establishment britannico, incluso il governo. Quando era ancora erede al trono, diversi membri dello staff di Buckingham Palace hanno espresso con me e altri il timore che non avesse la grinta e la visione necessari per scrivere il prossimo capitolo della famiglia reale. Forse avevano ragione. Poche settimane prima di diventare re, Carlo era immerso fino al collo in polemiche riguardanti i sacchi di denaro, accuse di corruzione nella distribuzione delle onorificenze e un'indagine della polizia sulle donazioni accettate dal suo ente di beneficenza, la Princess Foundation, o forse non gli è mai stato permesso di dare prova delle sue capacità. Molti membri della vecchia guardia della firm, inclusi i più esperti cortigiani della regina, i misteriosi uomini e ora donne in grigio, come li chiamava Diana, non si sono mai fidati di Carlo e non l'hanno mai particolarmente apprezzato. Per quanto mi riguarda, ho sempre ammirato il suo impegno per l'ecologia, ma è anche significativo il fatto che, in oltre 55 anni da Working Royal, non si è mai riuscito davvero a intercettare l'attenzione e l'interesse della gente comune. Le sue eccentricità e il suo atteggiamento da privilegiato gli hanno alienato le simpatie delle forze invisibili che avrebbero potuto ribaltare la sua popolarità dall'oggi al domani, lasciando la questione nelle sue mani, spesso con risultati disastrosi. Il fatto che non si è riuscito ad avviare un dialogo con il principe Harry, nonostante la dovizia di dettagli con cui il figlio ha descritto la loro frattura in interviste e dichiarazioni pubbliche, è un altro segno della sua incapacità di affrontare in modo efficace le questioni familiari o attraversare le crisi costituzionali. Per aggiungere al danno la beffa, Carlo sa che il suo sarà un regno di transizione, una sovranità di passaggio prima che il figlio maggiore, William, l'attuale principe di Galles, gli succeda da molto più giovane e tenti di infondere nuova linfa vitale a un sistema monarchico appassito. Nel corso degli anni ho visto alti cortigiani e altre figure dell'establishment preparare il principe William per il trono. Come mi ha detto un membro di lungo corso dello staff della regina prima della morte della sovrana, Carlo potrà anche essere il re, ma William è il futuro. Questa lotta per il potere tra il principe benvoluto e il re impopolare ha un che di shakespeariano, un tiro alla fune di famiglia condotto sia in pubblico sia in privato e che ha ancora il potenziale per disfare la razza monarchico. Gli intrighi e le pugnalate alle spalle sono iniziati molto tempo fa. È noto che, geloso della popolarità di Harry presso i media e dello status di preferito di William nella ditta, Carlo abbia sempre chiuso un occhio quando gli assistenti di palazzo lasciavano trapelare notizie sui suoi figli alla stampa. Camilla, anche lei colpevole delle stesse pratiche, ha causato ulteriori danni al nucleo familiare nel corso della lunga campagna per riabilitare la propria immagine. Un colpo da maestro dal punto di vista strategico, dato che una tempestiva fuga di notizie può aprire la strada a un rapporto di sostegno reciproco con i confidenti dei media, notizie in cambio di un trattamento favorevole e ridurre la concorrenza per i riflettori. Ai corrispondenti reali era noto da tempo, da ben prima della pubblicazione di Spare, che Carlo avesse foraggiato gli articoli sull'uso di droghe durante l'adolescenza da parte del principe Harry, consentendo la fuga di notizie personali su suo figlio allo scopo di costruire l'immagine del bravo papà che molti giornalisti riconoscenti sono stati ben felici di diffondere. Dicono di non mescolare mai la famiglia con gli affari e anche se in passato sono riusciti a fare buon visa a cattivo gioco quando necessario, William e Harry sono l'esempio perfetto del motivo per cui l'azienda di famiglia sembra spesso a un passo dal baratro. Nonostante fossero molto uniti da ragazzini, la decisione di Harry di disertare per andare in America, termine di William, secondo una fonte non mio, ha aggravato una frattura già esistente tra i fratelli. Deluso dalle scelte di Harry e concentrato sulla propria scesa al trono e sulla ritrovata dedizione alla corona, ormai William considera il fratello un outsider, soprattutto dopo la pubblicazione di Spare, in cui, oltre a ulteriori dettagli sulla decisione dei Sussex di fare un passo indietro rispetto ai propri impegni reali, si trovano anche delle riflessioni sul ruolo giocato da William. L'erede al trono non ha comunque più bisogno di Harry, mi ha spiegato una fonte poco dopo la partenza del duca di Sussex dal Regno Unito nel marzo del 2020. Non essendogli più utile come distrazione o danno collaterale, William ha cominciato ad allontanarsi dal fratello già dal matrimonio con Meghan, che l'allora duca di Cambridge aveva preso in antipatia fin dall'inizio. Saldamente radicati all'interno della famiglia, William e Kate sono diventati una squadra impegnata e motivata, concentrata sui rispettivi ruoli nella famiglia e nella storia reale. I drammi di Harry non li interessano più, o almeno così dicono. Alcuni potrebbero obiettare che in effetti non è necessario coinvolgere il duca e la duchessa di Sussex in discorsi che riguardano il futuro della monarchia, dato che si sono trasferiti in California. In quanto membri della famiglia reale che hanno scelto di vivere in modo autonomo e completamente staccati dall'istituzione monarchica, al momento non hanno alcuna voce in capitolo riguardo alla direzione che prenderà la Firm. Ma il loro ruolo nella storia reale rimane più importante che mai. Le questioni sollevate dalla coppia, comprese le accuse di bullismo, misoginia, razzismo, oppure per usare le parole di Harry pregiudizi inconsci e manipolazione dell'immagine, unite alla crudeltà istituzionale di cui sono stati vittima, restano ampiamente ignorate e non affrontate dal palazzo. E tutte le promesse fatte all'indomani della loro partenza, fra cui quella di attenzione al pluralismo, si sono rivelate specchietti per le allodole utili per le pubbliche relazioni. E non è un bel biglietto da visita per un'istituzione il cui sovrano regna su una Gran Bretagna interraziale, ed è a capo di un Commonwealth prevalentemente non bianco. Screditare Harry e Meghan con l'aiuto della stampa? Non importa quante volte le fonti di palazzo neghino di averlo fatto, forse ha danneggiato la credibilità dei Sussex per qualcuno, ma per il grande pubblico, ancora turbato dal trattamento riservato dalla famiglia reale al suo primo membro di razza mista, resta una questione spinosa. Al di là dei drammi della cerchia familiare, è la stessa istituzione monarchica a trovarsi in difficoltà. Sostenere la Firm indebolita dalla morte della regina è un compito incredibilmente complesso. E lo diventa ancora di più quando una percentuale crescente della popolazione ritiene che stia perdendo rilevanza, e in tanti si sentono sempre più a proprio agio nell'esprimere opinioni personali dopo la morte della regina Elisabetta II. Negli ultimi anni la monarchia si è affannata a giustificare la propria ragion d'essere di fronte alle giovani generazioni, sempre più convinte che non abbia più uno scopo tale da giustificare il suo crescente costo per lo Stato. Per tutta risposta il sistema, in una svolta quasi trampiana, si è appoggiato al patriottismo, persino al nazionalismo, per sostenere la propria rilevanza. Nel dubbio addobbano il palazzo, sventolano la Union Jack e arruolano i tabloid. Nel suo primo anno di regno, con il ricordo della regina ancora fresco nella mente di molti sudditi, Carlo III ha goduto di un certo favore. Per molti, in particolare per i realisti britannici, è ancora un figlio che ha perso la madre. Ma, come dimostrano i sondaggi che danno la sua popolarità già in calo, la simpatia del paese non può durare a lungo. E resta la domanda più complessa. Come può un ex principe viziato, salito al trono d'anziano, mantenere l'attenzione di chi sente la monarchia più superflua che mai, o peggio, di chi non nutre per l'istituzione il minimo interesse? La regina Elisabetta II ha lasciato al figlio un mandato e un percorso da seguire, un progetto su come tenere a galla la nave. Ma Carlo è il tipo di re che si limita a seguire le regole? Oppure vorrà andare per la sua strada, come ha dimostrato più volte in passato? È un dato di fatto che le difficoltà pubbliche, le reazioni istintive e la discordia familiare della Firm abbiano creato una mentalità da si salvi chi può, che ha reso impossibile vivere secondo il motto Never complain, never explain. Il marciume sta erodendo le fondamenta della monarchia. Senza la regina Elisabetta II, chi può fare da contraltare? Chi può fermare la diffusione del marciume? Come nel ritratto di Dorian Gray in soffitta, la terribile verità sta iniziando a manifestarsi. Ho seguito ogni fase saliente della famiglia reale da quando il fidanzamento di William e Kate ha attirato l'attenzione del mondo, ma non mi sarei mai aspettato, un giorno, di trovarmi al centro di quella storia. Da capo della redazione europea di USA Weekly, la rivista di John Wenner, all'epoca una delle pubblicazioni più lette d'America, sono entrato nei ranghi dei corrispondenti reali con gli occhi luccicanti per lo stupore e mi sono fatto le ossa coprendo una vasta gamma di eventi dei Windsor. Impegni pubblici, matrimoni, nascite e molti piovosi mercoledì di visite alle fattorie e inaugurazioni di centri ricreativi in piccoli villaggi rurali. Era come avere un posto in prima fila per osservare il loro universo e non molto tempo dopo ho cominciato a viaggiare per il mondo con William, Kate e Harry, all'epoca le star più giovani e interessanti della famiglia, e a stringere legami con le persone che orbitavano loro attorno. Che si trattasse di condividere strategie all'alba dell'era dei social media, di fare da cassa di risonanza durante certe crisi mediatiche o essere inviato a ricevimenti privati con i reali, per gli assistenti di palazzo era un volto gradito della cordiale stampa statunitense. Per mia fortuna, il mio lavoro mi separava da alcuni esponenti dei meno interessanti media britannici che membri dello staff e della famiglia avevano imparato a disprezzare in silenzio. L'arrivo di Meghan nel 2016 vide entrare in collisione i miei due ambiti di interesse, intrattenimento e reali, e meno di un anno dopo decisi di dedicarmi a tempo pieno alla Royal Family. Grazie al mio nutrito gruppo di fonti e alla tendenza a ragionare con la mia testa, in breve tempo sono diventato un confidente fidato per molti membri più giovani della famiglia e per le loro cerchie. Un vero insider. Ma tutto è cambiato dopo la pubblicazione del mio primo libro, Libertà, sul vorticoso viaggio di Harry e Meghan nella casa dei Windsor e la loro altrettanto vorticosa uscita di scena. Il libro ha sollevato un polverone sulla saga dei Sussex, rivelando le macchinazioni e i tradimenti familiari che alla fine hanno costretto la coppia a lasciare la ditta. Ma mi hanno anche reso vittima di molte delle pratiche tossiche che hanno spinto i Sussex alla fuga. Ti sei ritrovato nel bel mezzo di una faida familiare e per di più dalla parte sbagliata. Non è una cosa che capita spesso ai giornalisti. Mi ha detto un assistente senior della defunta Regina mentre iniziavo a scrivere questo libro. La paura che potessi fare rivelazioni dannose ha spaventato la famiglia e fatto arrabbiare potenti agenti di palazzo, oltre a trasformarmi in un osservato speciale. Cinque mesi prima della pubblicazione del libro, un amico intimo del principe Harry mi aveva avvertito che la monarchia e gli alleati nemidia che la sostengono era pronta a giocare sporco contro chi tenta di esporre la verità. E non aveva torto. Sono ancora nel giro, ma diciamo che non sono più il giornalista che alcuni membri della famiglia o i commentatori più filomonarchici sono entusiasti di vedere. Dal momento che ho smesso di giocare al gioco di palazzo del Dohut Des, ora sono percepito dall'istituzione come una fonte di guai. Perché? Perché so e condivido troppo. Per quattro anni, alcuni dei più difficili nella storia dei Windsor, ho avuto modo di osservare in prima persona la piena portata degli inganni, della malizia e dell'atteggiamento difensivo di un'azienda familiare instabile e di un'istituzione in declino. Ho visto fino a che punto sono capaci di spingersi per salvarsi la pelle. Conosco il profondo logoramento dell'establishment reale e i danni umani che sono stati causati. È impossibile negare i successi della regina nei suoi 70 anni di regno, successi che il mondo intero ha ricordato nelle espressioni di cordoglio e nel proliferare di omaggi seguiti alla sua morte. Ho avuto la fortuna di assistere ad alcune sue iniziative cruciali, dai tentativi di rendere più equa la linea di successione agli stancabili sforzi di beneficenza. E ho constatato l'impatto che l'incrollabile dedizione al dovere di sua maestà ha avuto sulla nuova generazione di Working Royal. E non dimenticherò che l'assistente più fidato di Harry mi ha detto, al culmine della battaglia del principe con la monarchia, che la vita votata dalla defunta sovrana al servizio pubblico, continua a ispirare ogni passo della nuova avventura americana dei Sussex. Ma ora tutto questo è in pericolo. Temo che, continuando a ignorare la corruzione nel sancta santorum del palazzo e consentendo a una cricca di cortigiani e ai media britannici di prendere le decisioni, oltre a sostenere in silenzio chi ha portato vergogno e omiliazione alla corona, la monarchia rischia di danneggiare irrimediabilmente l'eredità della regina. Re Carlo e il principe William hanno già dato segno di voler lasciare che i propri scopi egoistici, una cultura di insabbiamenti e inganni e le discordie familiari, prendano il sopravvento sulla famiglia reale. È un risultato che Windsor possono evitare, ma soltanto a patto di cambiare. In passato mi sono trattenuto dal divulgare alcune delle verità più oscure della monarchia britannica come hanno fatto altri, perché non volevo perdere la mia posizione privilegiata, le mie fonti o affrontare le conseguenze delle minacce che ricevevo. Man mano che il broccato un tempo sontuoso della famiglia reale continuava a sbiadire e a sfilacciarsi, sia dietro le quinte, sia in prima pagina però, mi sono convinto che fosse giunto il momento di scrivere questo libro. Parte di ciò che leggerete potrebbe già essere noto ai giornalisti, che al pari del pool di stampa della casa bianca seguono la famiglia reale nei vari impegni. Ma questo non significa che ne abbiano mai parlato. Si può creare qualche problema e farla franca ovviamente, ma se si vuole avere accesso ai briefing ed essere invitati a ricevimenti privati bisogna danzare al ritmo del palazzo. E diciamo che non è la strada che ho scelto di seguire. Le informazioni che condividerò provengono da oltre dieci anni di appunti personali, nonché conversazioni e interviste con le molte persone che hanno giocato un ruolo importante in momenti fondamentali, siano essi amici o conoscenti dei Windsor e di coloro che lavorano per la monarchia, assistenti di palazzo e cortigiani, passati e presenti, addetti ai lavori del mondo della politica e dei media e, come vedrete, di tanto in tanto, membri della famiglia reale. Con alcune parti di questo libro mi farò terra bruciata, ma se voglio raccontare tutta la storia non posso tirarmi indietro, non più. Siamo alla fine dei giochi. L'estratto finisce qui. Se volete saperne di più, non vi resta che leggere il libro. E se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me, scrivetemi nei commenti o sui miei social. E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault. Alla prossima, ciao!